Nell'episodio precedente di Mucca e Amelie Mamma voglio che ritorna Mucca Non ti ricordi com'era finito l'ultima volta Balla con Amelie Balla con Amelie Luca! Luca! Sei tornato! Ti senti mamma e papà! Ma i nostri genitori lo sanno che sei qua Aspettavi diamo in camera tu e io ti racconto tutto va bene? Vai Ami non vedevo l'ora di vederti E tu mi mancavi molto Però io devo trovare la mia vera famiglia Cosa? Io pensavo che noi eravamo una vera famiglia Lo so però devo trovarli Ma io devo trovarli Ma io devo trovarli Scusa ma io devo sapere chi sono E come fai a sapere chi sono? Ce l'ho la foto Questi? Dammi qua Ti hanno comprato l'orologio Apple Watch Ma perché loro ti hanno comprato Apple Watch a meno? No Anche io vedevo l'orologio Apple Watch A te ti hanno comprato un nuovo iPhone Va bene Mucca dov'è il mio anoroggio? Mucca! Mucca non è giusto rubare le cose da bambini Dove sei? Mucca non è giusto rubare le cose da bambini Mucca! Mucca non è giusto rubare le cose da bambini Mucca dove sei? Dove sei? Dove sei? Con chi sta parlando? Magari con gato? Con gato? Mucca non è giusto rubare le cose da bambini Mucca non è giusto rubare le cose da bambini Mucca non è giusto rubare le cose da bambini Mucca non è giusto rubare le cose da bambini